Musica Nei giorni fra il 13 e il 16 ottobre del 2000 la valle d'Aosta fu invasa da un mare di fango. Nus, Polen, Cogne, Gressonese, Jean Donnas, Fenisse e Aosta, solo per citare i paesi più colpiti, sono stati invasi dalla corrente dei torrenti che straripavano. Per alcuni giorni le intense e prolungate piogge, arrivate anche a una quota di 3.500 metri di altezza, hanno provocato un rapido scioglimento della neve accumulata nei giorni precedenti. In molti casi il terreno si è comportato come una lava fluida, in altri casi interi blocchi di terra si sono staccati insieme ad alberi e piante, fenomeni che hanno portato rapidamente i torrenti principali e di conseguenza la Dora Baltea ad uscire dal loro alveo. Il bilancio di quell'alluvione è stato di 19 morti. E a dieci anni di distanza l'amministrazione regionale, grazie anche al contributo di diverse aziende private e fondi comunitari, ricorda quella calamità con un obiettivo duplice, sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sui rischi idrogeologici e sull'importanza della prevenzione. Dal 30 settembre al 15 ottobre una serie di iniziative che si riuniscono sotto il nome di Valluvione ripercorreranno quanto accaduto nel 2000. La perdita di vite umane, i danni alle cose e al territorio, ma anche la solidarietà della popolazione nell'emergenza. Un'occasione per fare il punto su quanto è stato fatto per la ricostruzione e su come si è evoluto il sistema di protezione civile. In questi anni ci hanno insegnato che la tecnologia ci può aiutare tanto, sempre di più ci aiuterà nel passare degli anni, però ci hanno anche insegnato che senza una cultura del rischio e quindi della conoscenza del proprio territorio in cui si vive e cercare di saperlo vivere con attenzione e con cognizione di causa non riusciremo a avere una sicurezza di tutto riguardo. Valluvione si articolerà in diverse iniziative pensate soprattutto per i giovani e quindi organizzate alla cittadella di Aosta. Innanzitutto un ciclo di conferenze, una mostra interattiva, un sito web, alcuni atelier formativi e un film documentario realizzato in collaborazione con la sede regionale RAI della Valle d'Aosta che sarà proiettato durante la commemorazione ufficiale in programma nel Salone del Palazzo Regionale il 15 ottobre alle 16. Abbiamo ritenuto insieme alla Presidenza della Giunta di organizzare una ricorrenza molto sobria che guardi soprattutto al ricordo, al ricordo di tutte quelle persone che non sono più con noi e a stare vicino ancora oggi a quelle famiglie ma nel contempo guardare anche i nostri giovani per dargli questa cultura del rischio e fargli capire che il territorio valdostano come tutti i territori del mondo sono soggetti a certi rischi e a certe situazioni e quindi bisogna vivere col proprio territorio conoscendolo a fondo. È in programma anche un convegno il 4 ottobre prossimo al Centro Congressi del Bilias e Mensan dedicato alle azioni intraprese per le calamità idrogeologiche con la creazione di un sistema integrato di protezione civile e l'evoluzione del sistema regionale di difesa dai rischi idrogeologici. Dopo la Lovina del 2000 lo sforzo di intervento per mettere in sicurezza il territorio è stato notevole sia da parte della Regione sia da parte dei Comuni che sono stati coinvolti direttamente nell'opera di ricostruzione in particolare delle infrastrutture primarie, della viabilità e anche di alcuni piccoli interventi di messa in sicurezza del territorio. La Regione invece si è occupato di realizzare gli interventi di maggiore dimensione. Lo sforzo finanziario è stato superiore ai 450 milioni di euro e possiamo dire che dopo dieci anni oramai gli interventi principali sono stati tutti realizzati, siamo praticamente al 96-97% di realizzazione del programma. Sicuramente questi interventi sono stati poi propedeutici alla realizzazione di tutta un'altra serie di interventi di messa in sicurezza del territorio e di cambiamento dell'impostazione della strategia per la difesa del territorio.